ciao ciao a tutti bentrovati sul mio canale feri asmr io sono federica e quello che state per guardare è un nuovo video asmr rilassante questa volta voglio utilizzare un regalo che mi è stato inviato da saro cioè questa meravigliosa candela la fragranza è caffè sweet caffè ma anche dolcetti è una candela scoppiottante e fa un suono davvero molto molto rilassante per questo accompagnerò a questo suono a una sessione di rilassamento guidato grazie quindi a saro e voi indossate le cuffie mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti attivando la campanellina e mettete mi piace a questo video se l'idea vi piace e noi iniziamo grazie a tutti 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 ecco adesso puoi rilassarti completamente i tuoi occhi possono restare aperti oppure puoi decidere di chiuderli io ti consiglio di tenerli aperti in quanto riesci perché la visione del fuoco la fiammella che brucia è davvero molto 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 rilassante e questo suono può accompagnare dolcemente la mia voce e le immagini della candela che si consuma pian piano fino a farti addormentare spero tu abbia scelto un posto comodo dove sederti o distenderti questo questo rappresenta il tuo luogo sicuro per tutta la durata del rilassamento guidato ti invito ti invito per prima cosa a svuotare la tua mente a lasciare andare tutti i pensieri non sono necessari non sono necessari in questo momento libera la tua testa da ogni preoccupazione liberala liberala dal fumo che i pensieri tristi e i problemi provocano in te ecco ecco che il fumo dei tuoi pensieri desiderate desiderate inizi a sentire un profumo dolce e leggero la tua mente la tua mente è sempre più lieve il profumo che avverti ti pervade totalmente inizi a sentirlo nella stanza quindi è un profumo che sa di buono ti ricorda qualcosa di familiare? adesso non pensare non pensare non pensare non pensare non pensare non pensare che non pensare non pensare non pensare di ascolta 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 solo mentre senti questo profumo lo stress si scioglie lentamente così come la contrazione dei tuoi muscoli senti che non c'è più tensione sul tuo collo sulle tue spalle sulla tua schiena le tue gambe sono rilassate le tue braccia sono rilassate la tua pancia è rilassata e inizia a respirare profondamente e inizia a respirare senti il rilassamento cresce senti tutto il tuo corpo sciogliersi come la cera di questa cannella come la cera di questa cannella e man mano diventi sostanza morbida sostanza morbida e la morbidezza ti aiuta affonderti affonderti con l'ambiente ti aiuta adattarti a ciò che ti circonda senza senza perdere alcun peso il tuo corpo per intero è leggero morbido adesso è quasi fluido e non c'è assolutamente nulla che possa ostacolare la tua espansione puoi espanderti e liberarti puoi andare oltre qualsiasi limite e superare i confini gli ostacoli gli ostacoli perché sei forte perché c'è vita dentro di te e la tua è un'energia buona ecco puoi usare questa energia per compiere tutto ciò che desideri conservalo conservalo c'è bisogno che adesso riposi per ricaricarti conservalo e per questo ti dole buonanotte 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 adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte e se vuoi vediamo Grazie a tutti.